Quali sono le caratteristiche di un buon sistema di videosorveglianza? Negli ultimi dieci anni sono successe molte cose nel mondo della videosorveglianza e oggi bisognerebbe aspettarsi molto da un buon sistema di questo tipo, dovrebbe essere espandibile in ogni momento per raggiungere videocamere, dovrebbe anche gestire video in HD, quindi non solo bassa ma anche alta risoluzione che è molto comune oggi. Inoltre un sistema di videosorveglianza si dovrebbe integrare con altri sistemi di sicurezza quindi oggi i consumatori si aspettano l'integrazione con il proprio sistema di sicurezza. Il sistema dovrebbe anche essere facilmente aggiornabile, a prova di futuro e queste sono esattamente le caratteristiche dei prodotti venduti da Milestone. Vendiamo soluzioni a prova di futuro che nel tempo possono essere aggiornate. Un sistema di videosorveglianza dovrebbe anche sapere comunicare con tante diverse telecamere di produttori diversi e questo è un altro punto di forza di Milestone.